Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il 17 maggio del 2015, nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Pordenone, in Friuli, due ragazzi vengono trovati senza vita nella loro auto in via interna. Sono appena passate le 8 di sera. I corpi sono su una Suzuki bianca. Le vittime sono Trifone Ragone, di 29 anni, nato a Monopoli, un comune italiano della città di Bari, in Puglia, ma residente a Adelfia, e Teresa Costanza, di 30 anni, nata da Grigento, in Sicilia, ma residente a San Donato, milanese. Teresa è al posto di guida, con la testa sul finestrino, andato in frantumi. Trifone è al posto del passeggero, con lo sportello aperto e una gamba fuori dalla macchina. Entrambi presentano ferite d'arma da fuoco alla testa. Alcuni bossoli di calibro 7,65 vengono trovati nella vettura. Presumibilmente è questa l'arma che ha affreddato i due giovani. La prima ipotesi è quella dell'omicidio suicidio, smentita però in poco tempo, poiché l'arma non viene trovata nelle vicinanze. Pare che il delitto sia avvenuto tra le 19.30, ora in cui Trifone è uscito dalla palestra, e le 19.50. Vengono sentiti dagli inquirenti amici e colleghi della coppia, che confermano che tra i due non c'erano mai stati dissapori. Prima del delitto Trifone si era allenato in palestra. Il ragazzo era abbastanza noto nel mondo della pesistica. Gli investigatori parlano di un'esecuzione in stile malavitoso. Chi ha sparato lo ha fatto a sangue freddo, senza tentennamenti, puntando prima alla testa del giovane, così da impedirgli qualsiasi azione di difesa. Poi ha rivolto l'arma, una semi-automatica, contro la fidanzata, seduta al posto di guida. Dall'attacca cranica emerge che in tutto sono sei colpi sparati. Tre hanno colpito l'uomo, uno alla tempia e due alla mandibola. Tutti a bruciapelo e, altrettanti, la fidanzata, che potrebbe aver visto in faccia l'assassino, ma non ha avuto il tempo di difendersi e cercare la fuga scendendo dall'auto. L'ipotesi è che il ragone sia stato freddato mentre si stava accomodando sul lato passeggero dell'utilitaria di famiglia. È stato preso di spalle e una gamba è rimasta fuori dall'abitacolo, mentre la compagna è morta alla guida del veicolo quando stava per mettere in moto. Nel tentativo disperato di sottrarsi ai colpi, la donna avrebbe schivato uno dei proiettili che l'ha centrata di striscio alle labbra, distruggendo poi il finestrino. Gli altri due non le hanno dato scampo, colpendola al capo. Gli uomini del RIS di Parma e i colleghi del ROS di Roma partecipano a una riunione operativa al comando provinciale dei carabinieri della città friulana. Successivamente effettuano un sopralluogo al palazzetto dello sport. Proprio il coinvolgimento dei ROS, organo investigativo dell'arma con competenza sia sulla criminalità organizzata che sul terrorismo, fa capire come non si intenda escludere alcuna pista dal momento che l'efferata esecuzione di Trifone e Teresa non sembra per ora trovare alcuna spiegazione. Gli investigatori sono quindi al lavoro su più fonti, ma l'assassino sembra svanito nel nulla. Le piste che seguono gli inquirenti sono diverse. Secondo la loro ricostruzione, Trifone avrebbe confidato a un suo amico la presenza di un corteggiatore che importunava Teresa. Pare che Trifone, preso da un attacco di gelosia, volesse dare una lezione a questo misterioso uomo. Si indaga anche sul traffico di anabolizzanti con qualche frequentazione nelle palestre o nei locali notturni. Ipotesi che prescinderebbero da un coinvolgimento di Trifone e della sua compagna in qualunque attività illecita. In quanto gli investigatori non stanno cercando indizi di colpevolezza a carico delle vittime, ma solo il punto di congiunzione che può essere anche assolutamente casuale tra loro e l'assassino. A setaccio quindi c'è anche il mondo dei locali notturni, di cui i due giovani erano frequentatori. Infatti Teresa, con lo pseudonimo di Greta, ballava di tanto in tanto come ragazza immagine. Per quanto riguarda le palestre, si cerca di stabilire se Trifone possa essere in qualche modo entrato in contatto con traffici illeciti, magari per l'appunto di anabolizzanti. Anche in questo caso non vi è nessuna accusa di comportamenti poco chiari, ma il timore che la vittima possa involontariamente aver visto qualcosa o appreso informazioni tanto compromettenti da portare una reazione che si è conclusa con il duplice omicidio. In merito all'ipotesi del delitto passionale, gli investigatori passano al setaccio ogni email e messaggio sui social e sui cellulari delle vittime. Le loro comparsate retribuite nei locali notturni spingono gli inquirenti a vagliare qualsiasi proposta o avanza ricevuta e magari declinata bruscamente. Questa pista spiegherebbe più di altre la duplice esecuzione. Se l'obiettivo dell'assassino fosse stato soltanto Teresa, avrebbe potuto farlo all'arrivo in palestra, mezz'ora prima dell'agguato. La ragazza, infatti, dopo aver accompagnato il fidanzato all'allenamento quotidiano, era uscita per alcune commissioni, parcheggiando al ritorno l'utilitaria nel medesimo posto dove è stata affreddata poco dopo. Insomma, se l'assassino avesse voluto, quello sì che sarebbe stato il momento ideale. Sola, al buio, senza testimoni e scongiurando il rischio di una reazione di trifone che di certo non era un fuscello. A questo punto sono anche i ragazzi della palestra e la pesistica pordenonese a mettere insieme, come le tessere di un mosaico, le ultime ore di vita di Teresa. Teresa è nei cuori di tutti nella palestra sotto del forum, perché c'era sempre. A volte si allenava e spesso, in maniera discreta, stava in disparte e guardava il suo ragazzo. Questo è ciò che è accaduto anche martedì pomeriggio. I giovani della palestra l'hanno vista arrivare pochi minuti prima delle 18.30. Aveva finito da poco di lavorare. È circa quell'ora che ha sceso le scale ed è entrata nella struttura. Quel martedì deve andare a fare la spesa, ma prima si concede una sigaretta. Con lei c'è l'allenatore Dino Marcuz. Parlano del lavoro. La donna è contenta perché si trova bene nel nuovo posto e finalmente sembra una occupazione solida e duratura. Terminata la sigaretta, torna sotto, in palestra. Dice a tutti che a fare la spesa ora deve proprio andarci, ma ancora non si allontana dal palazzetto dello sport. Risalendo le scale, infatti, vede sul piazzale una giovane atleta appena uscita dalla pesistica per una sosta. Le due chiacchierano e Teresa le svela che vuole mangiare una crostata al cioccolato, che avrebbe comprato proprio durante la spesa. Tra una parola e l'altra si fanno le 19 circa. Anche un altro ragazzo che sta uscendo dalla palestra vede Teresa e la saluta. Si scambiano due battute. Non è possibile avere un'ora esatta, ma, secondo altri giovani atleti, potevano essere le 19.10 quando Teresa sale in auto per andare a fare la spesa. Un supermercato, il Pam Meta, è poco distante, vicino alla chiesa del Sacro Cuore. Tutto fa supporre che sia andata lì a comprare quello che le serviva. In pratica quello è il supermercato dove gran parte degli atleti e titolari della palestra vanno a fare rifornimento di cibo. Intanto, chiaramente, la palestra, pian piano, si è svuotata. I pochi rimasti non ricordano l'ora esatta in cui Teresa rientra. Ricordano bene, però, che una volta tornata in palestra, aveva baciato sulla guancia Trifone. Più o meno alle 19.50 Teresa, che è sulle scale, vede il suo ragazzo e altri due atleti uscire dalla palestra. Lei gli va incontro, si abbracciano e insieme fanno gli ultimi scalini per raggiungere il piazzale, che in realtà è il parcheggio. Con loro c'è uno sportivo della palestra, l'ultimo a vederli vivi. Questo atleta, mentre esce dal parcheggio con la sua macchina, incrocia un Audi A3, grigia, parcheggiata in doppia fila, con le quattro frecce. Niente di così strano, in ogni caso. In questo momento l'assassino probabilmente è già nascosto, o tra le auto, oppure sul suo mezzo, e sta aspettando. Teresa e Trifone quindi vanno verso la loro macchina. Salgono. Il resto è in quei sei colpi di pistola, sparati in sequenza. In lontananza un uomo che portava a spasso il cane, crede di aver sentito l'urlo strozzato di una donna. Un altro invece dirà più tardi ai carabinieri di aver sentito dei colpi che sembravano petardi. Venerdì 20 marzo viene effettuata nel reparto di anatomia patologica dell'ospedale Santa Maria degli Angeri di Pordenone, l'autopsia di Trifone e Teresa. Fin dall'inizio il medico legale Giovanni Del Bene, che ha eseguito i rilievi sui cadaveri dei fidanzati, ha parlato di delitto commesso da una manuamica, da qualcuno che la coppia conosceva e che non aveva motivo di temere. Parlano chiaro i corpi di Teresa e Trifone. La posizione rilassata all'interno della vettura. Una gamba dell'uomo ancora fuori dalla macchina, come se i colpi che l'hanno ucciso fossero stati esplosi mentre si stava ancora accomodando nell'abitacolo, come se stesse salutando una persona conosciuta. L'esame autoptico conferma sostanzialmente la dinamica dei fatti. Trifone Ragone è stato centrato da tre colpi di pistola, la fidanzata da due, tutti mortali e al capo. È stato possibile recuperare in perfetto stato tutti i proiettili sparati messi ora a disposizione del perito balistico Pietro Benedetti. Questo ritrovamento fornisce agli investigatori un elemento prezioso, poiché può garantire l'associazione del proiettile all'arma con assoluta certezza di provenienza, qualora la pistola venisse recuperata. La vera novità delle indagini è la presenza di un testimone che avrebbe visto un'auto fuggire a velocità elevata dal parcheggio. A bordo una persona con i capelli lunghi, non si sa se uomo o donna. Il gruppo di investigatori che sta cercando l'assassino continua la sua attività. Il lavoro viene suddiviso tra le varie squadre che si sono formate dopo l'arrivo in città dei RIS di Parma e del reparto crimini violenti del ROS di Roma, assieme ai colleghi di Udine e agli investigatori del comando provinciale dell'arma di Pordenone. Un quadro di indagine che si articola in quattro settori. Chi si occuperà del possibile movente passionale? Chi delle occupazioni, professioni delle vittime? Chi indagherà nel mondo dei locali notturni? E chi, infine, verificherà quanto attiene alle palestre e agli anabolizzanti? Ma ora sorge un'altra domanda. Chi erano Trifone e Teresa? Trifone e Ragone era un militare in servizio nella brigata corazzata a riete della caserma di Cordenons. È molto attento al suo fisico. Infatti la maggior parte del tempo libero lo passava in palestra. Viene descritto come un ragazzo simpatico, trifone, ma un po' sbruffone, ha fiducia nel suo aspetto e sa di piacere alle donne. Ogni weekend libero si recava a Milano, a far festa, a far serata. Insomma, va nei locali e si diverte, specialmente con le donne. Al ragazzo piace la compagnia femminile, ma non ama le storie a lungo termine. Almeno, fino a quando non conosce Teresa nel 2013. I due si incontrano in un locale di Milano, città dove Teresa viveva e lavorava. Pensate che Teresa, tra l'altro, si era laureata alla Bocconi e per pagarsi gli studi lavorava nei locali come ragazza immagine. I due si erano fidanzati nel dicembre del 2013 e convivevano da poco più di un anno. Teresa, dunque per amore, aveva lasciato Milano e il suo lavoro per stabilirsi a Pordenone e vivere insieme al suo amato. A Pordenone aveva iniziato a lavorare come assicuratrice e pare che tutto andasse per il meglio. Il sopralluogo degli investigatori del RIS nel piccolo immobile in affitto di Trifone e Teresa dura quasi tre ore. Vengono acquisite anche le videoregistrazioni delle telecamere che si trovano nella zona della palazzina. Si fa strada, con forza, l'ipotesi che l'obiettivo dell'esecuzione fosse il militare dell'esercito, quindi Trifone. Intanto arrivano i primi dati tecnici, quelli dei tabulati telefonici, e si comincia a scavare nella cerchia degli amici di Trifone Ragone e Teresa Costanza. Sott'esame un tablet, un computer e tre cellulari, tra cui uno smartphone e un iPhone, dispositivi con cui le vittime si collegavano anche ad internet. A questo punto emerge un quarto testimone. Un ragazzo che frequenta la palestra di arti marziali ha sentito, come gli altri testimoni, ma non ha visto nulla. In pratica si è trovato a pochi metri dall'assassino, lo ha sentito sparare mentre infilava il borsone nell'auto, ma gli è sembrato impossibile che a Pordenone, nel tranquillo e pacifico contesto del palasport Crisafulli, qualcuno potesse esplodere colpi di arma da fuoco. La pista della vendetta nei confronti di Trifone Ragone è la più battuta dagli inquirenti. Ma a questo punto facciamo un salto in avanti. È il settembre del 2015, sono passati sei mesi dal delitto dei fidanzati di Pordenone e finalmente arriva la prima svolta. Gli investigatori infatti finalmente iniziano ad acquisire e analizzare le immagini di videosorveglianza. Da una ripresa della telecamera posta nei pressi del palazzetto dello Sport, in via Amendola, si vede transitare un Audi A3 grigia con i cerchioni non di serie, uno stop fuori uso e un pupazzo sul cruscotto anteriore. E sono proprio i dettagli a incastrare chi si trovava alla guida. Questo perché l'auto è stata notata da uno dei testimoni. Se ricordate era parcheggiata in doppia fila con quattro frecce al palazzetto dello Sport, la sera del delitto. E il proprietario è un commilitone campano di Trifone di 26 anni, residente a Pordenone. A dirla tutta è anche un ex coinquilino del militare, di nome Giosuè Ruotolo. I due vivevano insieme ad altri colleghi in un appartamento di Pordenone, prima che Trifone si trasferisse a convivere nel condominio di Via Chioggia assieme a Teresa, pochi mesi dopo averla conosciuta. E insomma c'è un problema perché pare che Giosuè non abbia un alibi per la sera e l'ora del delitto. L'uomo, ripetutamente sentito dagli investigatori, ha sempre affermato di trovarsi nella propria abitazione da solo. E a questo punto si scopre che Giosuè risiede in una delle strade centrali di Pordenone, arteria che dista a piedi una manciata di minuti dal palazzetto dello sport. Il ragazzo si è trovato obbligato a indicare un legale di fiducia e un perito che parteciperà ad alcuni rilievi irripetibili sul caricatore della pistola, l'arma del delitto. Il caricatore, ripescato nel laghetto del parco di San Valentino dai Sub, è un modello monofilare che contiene più di sei colpi ed è compatibile con una vecchia beretta 7,65. Significa che l'assassino lo ha scaricato quasi completamente perché voleva essere sicuro di uccidere. Cosa che ha fatto, dimostrando sicurezza e abilità nel maneggiare l'arma. Una pistola beretta, realizzata prima della seconda guerra mondiale. Un ferro vecchio che in molti hanno definito la pistola del nonno. Inoltre, a quanto pare, Giosuè si era iscritto alla palestra in cui si allenavano i fidanzati. Ma era rimasto solo due mesi, poi era sparito. Non si tratta però di due mesi qualsiasi, ma di quelli immediatamente precedenti il duplice omicidio. Dunque, se sull'alibi dell'indagato si gioca sul filo dei minuti, la ricostruzione degli investigatori si sta affinando sul filo dei secondi. La squadra dell'arma non si accontenta degli indizi che hanno portato all'emissione dell'avviso di garanzia per l'omicidio dei due fidanzati. Sta continuando a raccogliere elementi che permettano di fare il passo successivo, collocare il commilitone di Ragone sul luogo del delitto e non soltanto sulla via di fuga. Diversi testimoni sono stati risentiti. E le domande sono quelle di Rito. Hanno visto Ruotolo tra le 19.40 e le 19.50 del 17 marzo? Hanno per caso visto la sua Audi A3 nel parcheggio del Palasport? Hanno mai notato Ruotolo, iscritto per soli due mesi, tra gennaio e marzo, nella vicina palestra del fitness all'esterno della pesistica? Mentre nei laboratori del RIS si analizzano gli indumenti invernali e i tamponi sulle tracce biologiche trovate in auto, Josué è chiamato al confronto con la procura. C'è una cosa su tutte che deve spiegare. Era lui alla guida della sua macchina la sera del 17 marzo? E perché ha impiegato così tanto tempo per percorrere circa 600 metri? Ha fatto una sosta? E per quale ragione? Chiariamo che a collegare Ruotolo all'omicidio è un elemento forte. Il ritrovamento della pistola nel laghetto del parco di San Valentino. Quella è sicuramente l'arma del delitto, gettata in acqua senza caricatore, recuperato a poca distanza. Si tratta, a dirla tutta, di un modello ideato per gli ufficiali di seconda linea della Grande Guerra, poi riconvertito per uso civile. Quest'arma in particolare è uscita dalla fabbrica nel 1922. Secondo gli investigatori, i movimenti della macchina dopo il delitto collegano la semiautomatica all'indagato. A giugno, quando la piattaforma dei dati raccolti dai carabinieri è ormai completa, gli investigatori intercettano, nelle riprese delle telecamere di Via Interna, l'Audi A3. Vi ricordo che Via Interna passa a fianco del palazzetto dello Sport. Ruotolo, sentito nell'immediatezza del delitto, come tutti gli altri commilitoni di Ragone, aveva dichiarato che quella sera si trovava a casa. Un appartamento di Via Colombo che divide con altri due carristi e che si trova a poca distanza dal palazzo Sport. Riconvocato in caserma, conferma la sua versione. Gli inquirenti allora mostrano i video a Josué e il ragazzo è costretto a cambiare la sua versione. Quella sera è uscito, proprio perché voleva andare in palestra, ma non ha trovato parcheggio, quindi dopo dieci minuti di attesa se n'è andato. Eppure, c'è un buco temporale che agli inquirenti proprio non torna. Quella sera l'Audi A3 è rimasta a sette minuti di troppo in via interna, in prossimità dell'Istituto Scolastico Kennedy, in un tragitto che normalmente si compie in circa 40-50 secondi. La prima telecamera davanti al palazzo Sport e alla caserma dei Vigili del Fuoco la riprende mentre percorre la strada in direzione del parco. La seconda probabilmente la manca perché l'obiettivo è puntato in un'altra direzione. La terza riaggancia la macchina all'altezza dell'incrocio semaforico di via San Quirino. L'Audi A3 a questo punto scompare per sette minuti. Un vuoto che Giosuè Ruotolo ha giustificato con un tentativo di jogging nel parco di San Valentino, ma dal momento che faceva troppo freddo, alla fine aveva deciso di ritornare a casa. Eppure, quel vuoto è l'elemento che ha catapultato il futuro finanziere nel registro degli indagati, perché per gli investigatori quei sette minuti sono compatibili con una camminata dal parcheggio dell'auditorium, Concordia, fino al laghetto, dove è stata ripescata l'arma del delitto. Emergono però dei problemi. La difesa di Giosuè afferma che non è comprovato da nulla che quella pistola sia l'arma del delitto, in quanto dalle analisi non risultano né impronte né tracce di DNA dell'indagato. Il 21 dicembre un nuovo nome si aggiunge alla lista degli indagati nell'inchiesta sull'omicidio dei due fidanzati di Pordenone. È quello di Maria Rosaria, patrone, la fidanzata di Giosuè Ruotolo, studentessa 24enne. Lo rende noto il programma di Rai 1 Storie vere. Le accuse mosse dalla procura di Pordenone nei confronti di Rosaria sono favoreggiamento, false attestazioni e istigazione. Insomma, secondo l'accusa, la ragazza è caduta in contraddizione nel corso degli interrogatori, cui è stata sottoposta durante una trasferta in campagna del pool di investigatori. All'epoca, chiaramente, era stata sentita come persona informata dei fatti. Adesso la sua posizione processuale è mutata e deve essere accompagnata da un legale. Da fonti investigative si apprende che l'accusa nei confronti della donna sarebbe quella di aver taciuto situazioni di sua conoscenza avvenute nelle immediatezze del delitto. Qualche giorno dopo, la fidanzata di Giosuè si presenta in procura, ma si avvale della facoltà di non rispondere. L'8 marzo 2016 arriva la ricostruzione della procura. Giosuè aveva pianificato tutto. Questo, quindi, è un delitto premeditato. Quella di Trifone e Teresa doveva sembrare un'esecuzione rapida e spietata degna di un assassino di grande spessore criminale. Ma Giosuè ruotolo con i criminali non ha mai avuto niente a che fare e secondo quanto accertato dagli inquirenti è cascato sugli elementi più banali, ossia le telecamere di sorveglianza del comune di Pordenone e gli accertamenti telefonici. Ci sono anche delle incongruenze lampanti. Era nel parcheggio allora del delitto ed è l'unica persona a non aver sentito gli spari. La sua auto era parcheggiata a pochi metri da quella delle vittime e non ha visto l'assassino. Insomma, è chiaro, no? Il suo alibi comincia a vacillare nell'istante in cui l'Audi A3, grigia, lascia le sue tracce lungo una delle vie di fuga prese in considerazione dagli investigatori dell'arma, ossia via interna. Un alibi che ruotolo sfoggia già la sera stessa del delitto, quando convocato dai carabinieri come tutti gli altri commilitoni di Trifone e Ragone, afferma che quella sera non è uscito di casa. Il testimone chiave in questo caso è un runner che stava facendo jogging attorno al palazzetto dello sport. Il procuratore capo di Pordenone, durante la conferenza stampa sugli ultimi sviluppi delle indagini, afferma che il runner ha incrociato le vittime. Le ricorda mentre stavano per salire sulla loro auto e camminandosi lungo via Amendola, indicando precisamente ai carabinieri la zona dove si trovava in quell'istante. Lo stesso atleta ha completato il proprio allenamento nella stessa zona del Parco San Valentino. Si tratta di 420 metri, percorsi in un lasso di tempo compreso tra due minuti e mezzo e tre. La medesima telecamera inquadra 30 secondi prima la vettura di Josué, cioè poco dopo che l'omicidio è stato commesso. La vettura si doveva, quindi, per forza trovare nel luogo in cui è avvenuto l'omicidio. La stessa macchina, in una seconda curiosa coincidenza, si ferma nel Parco di San Valentino per un percorso di jogging, ma il tempo dichiarato da ruotolo è incompatibile con il tracciato riferito. Il percorso è invece compatibile con la possibilità di raggiungere la zona del laghetto dove è stata trovata la pistola. Non è vero nemmeno che la sosta fuori dal palasporto è durata solo dieci minuti, ma almeno 25 prima del momento in cui le telecamere lo ritraggono in uscita dal parcheggio. Josué è quindi rimasto nel parcheggio per molto tempo e tanti parcheggi si erano nel frattempo liberati. È inverosimile che egli si sia fermato per soli dieci minuti, senza poter lasciare l'auto in sosta in un parcheggio, come dichiarato, per giustificare la propria presenza e l'improvvisa decisione di andarsene proprio nei secondi in cui veniva compiuto il delitto. In tutto questo, però, manca una cosa fondamentale, ossia il muovente. Per delinearlo dobbiamo tornare indietro nel tempo. Tra il 2012 e il 2013, Trifone vive con altri due commilitoni a Pordenone. Uno dei due è proprio Josué. A quanto pare Josué era, come dire, affascinato da Trifone. Andava con lui in palestra. Aveva iniziato a seguire un'alimentazione identica alla sua. Forse quella che provava non era solo fascinazione, ma invidia. Fatto sta che, di colpo, Josué inizia ad evitare Trifone. Non lo sopporta. Ma perché? I due sono arrivati allo scontro per una questione di soldi. Infatti, dato che vivevano insieme, dividevano le spese. E pare che talvolta Trifone non pagasse puntualmente la sua parte. Inoltre, e soprattutto, Josué inizia quel tempo a essere stufo dello stile di vita di Trifone. Chi, vi ricordo, aveva molte frequentazioni femminili prima di conoscere Teresa. E queste frequentazioni, ovviamente, le portava a casa, disturbando Josué mentre dormiva. Quando Trifone se ne va dall'appartamento per convivere con Maria Teresa, i rapporti non si appianano, tanto che Josué elimina Trifone dalle amicizie su Facebook, mesi dopo il suo trasferimento, e sostanzialmente finge di non conoscerlo. I due si comportano come perfetti estranei. Ed allora, secondo l'accusa, che il ragazzo avrebbe pianificato la propria vendetta, messa poi in atto la sera del 17 marzo nel parcheggio del Palazzetto dello Sport. Per scongiurare qualsiasi eccezione da parte della difesa, gli investigatori di Pordenone e del Ross hanno censito tutte le Audi a tre grigie all'interno del territorio nazionale. Un lavoro chiaramente colossale che ha impiegato il pool per molte settimane, ma che alla fine ha consegnato una risultanza significativa per l'accusa. Ovvero, l'unico veicolo di quel tipo, immortalato dalle telecamere non lontano da Palazzetto e Parco di San Valentino, poteva essere soltanto quello di Josué Ruotolo. Secondo quanto si apprende dalla scrematura per passaggi successivi, sono rimaste soltanto cinque auto di quel tipo e caratteristiche. Due sono state nel frattempo rottamate, o comunque non erano più in circolazione. Le altre tre appartengono a persone che il 17 marzo 2015 si trovavano molto distanti da Pordenone. È questo uno degli elementi contenuti nell'ordinanza con cui il GIP di Pordenone, Alberto Rossi, ha accolto le richieste di arresto per Josué Ruotolo e per la sua fidanzata, Rosaria Patrone. L'alibi di Josué Ruotolo è stato in pratica demolito dagli inquirenti. Ci ha messo cinque, forse sei secondi per uccidere Teresa Trifone. Sette minuti per disfarsi della pistola nel laghetto del parco di San Valentino e poi tornare a casa e far finta di giocare ai videogame su internet. Il GIP a questo punto individua due esigenze cautelari. La possibilità di inquinare le prove e un generico pericolo di reiterazione del reato. Secondo il giudice, così come avrebbe ucciso Teresa per eliminare un testimone che avrebbe potuto indirizzare i sospetti degli inquirenti su di lui, Ruotolo potrebbe uccidere ancora, per ritorsione o vendetta di amici o conoscenti che lo avrebbero tradito. A distanza di un anno dal delitto, nel marzo del 2016 emerge che Josué Ruotolo e Maria Rosaria Patrone si erano inventati una finta amante per dividere Teresa e Trifone. L'avevano chiamata Annalisa come una vecchia fidanzata di Trifone che Josué aveva conosciuto durante una serata al Palmariva di Fossalta di Porto Gruaro, una sera che l'amico si esibiva sui cubi. Le cattivierie cominciano ad arrivare il 26 giugno e terminano l'11 luglio 2014. Sulla chat che Teresa Costanza ha su Facebook compare un utente chiamato Anonimo Anonimo. Questo utente scrive Teresa a questo messaggio risponde il 1 luglio e scrive Ciao Annalisa, sì, sono la ragazza di Trifone. Visto che dici di avere una relazione col mio ragazzo, dimostramelo quando vi siete visti l'ultima volta. I messaggi però non cessano di arrivare e costringono Trifone ad intervenire. Infatti il 7 luglio 2014 a questo profilo anonimo il ragazzo scrive Ciao, sono Trifone. Sai che è molto stupido quello che fai. Tu impieghi del tempo per scrivere queste cavolate, significa che una vita tua non ce l'hai. E soprattutto se pensi che facendo così ci dividi, sta solo succedendo il contrario. Il PM chiede quindi a Giosuè sia mai mandato un messaggio a Teresa Costanza, il ragazzo nega, ma non sembra molto convinto. E infatti Trifone l'ha scoperto. Ed è a questo punto che tra i due si è verificata un'accesa discussione, tanto che il giorno dopo Giosuè sfuggiava il volto tumefatto e un polso dolorante. Gli inquilini chiaramente chiedono a Giosuè chi è stato a ridurlo così e lui senza problemi afferma che è stato Trifone proprio fuori dalla palestra. Giosuè era arrabbiato tanto da dire ai conquilini che avrebbe voluto ammazzare Trifone. La verità però è un'altra. Trifone lo ha minacciato di denunciarlo per stalking e calunnia. Ricordate una delle prime ricostruzioni secondo la quale Trifone avrebbe confidato a un suo amico la presenza di un corteggiatore che importunava Teresa? Ebbene, non era proprio un corteggiatore, ma era questa la pista che stavano seguendo. A importunare Teresa era proprio Giosuè Ruotolo, ma non per tentare di conquistarla, chiariamo, bensì per tentare di allontanarla da Trifone. Secondo i giudici il movente si colloca proprio con la minaccia di denuncia da parte di Trifone. Giosuè è a questo punto che inizia a preoccuparsi sul serio, molto angosciato per la sua carriera nella guardia di finanza, dove intendeva prestare servizio. È ovvio, una denuncia avrebbe intaccato la sua carriera ed è per questo che Giosuè Ruotolo ha pianificato l'omicidio di Trifone. Teresa è morta solo perché è presente al momento dell'esecuzione. Rosaria Patrone, la fidanzata di Giosuè, è indagata perché è considerata la vera istigatrice del piano. Anche lei, non si sa perché, odia Trifone Teresa ed era in combutta con Giosuè per farli lasciare. Lunedì 10 ottobre 2016 ha inizio il processo a Giosuè Ruotolo in Corte di Assise a Udine. Durante il processo viene sottolineato che non c'è nessuna traccia del DNA di Giosuè Ruotolo sul bossolo e sugli altri campioni biologici raccolti nella vettura di Teresa Costanza e Trifone Ragone. E non c'è nessuna traccia del DNA delle due vittime sui campioni raccolti dai vestiti e nell'auto di Ruotolo. Sul bossolo trovato in auto c'è un profilo genotipico appartenente a una delle vittime e un altro profilo genotipico minoritario ma comunque utilizzabile per il confronto che non appartiene a Giosuè Ruotolo. Nonostante ciò, il 20 ottobre il PM chiede la condanna all'ergastolo con due anni di isolamento diurno per Giosuè Ruotolo. Queste sono le ultime battute della lunga requisitoria del PM. Ruotolo ha commesso gli omicidi per salvare la sua carriera. L'odio verso Trifone e la gelosia verso Teresa lo avevano assalito già da tempo. Togliendoli di mezzo sparivano due rivali, due minacce viventi, due persone verso cui covava odio già da tempo e il suo futuro sarebbe tornato ad essere erosio. Abbiamo avuto il movente sempre sotto gli occhi e, ce lo ha detto l'imputato stesso quando ha motivato, le ragioni per cui non aveva riferito di essere stato al palazzetto quella sera. Aperte le virgolette. Una sola attenzione avrebbe potuto compromettere il mio ingresso nella Guardia di Finanza che sarebbe avvenuto a breve. Chiuse le virgolette. Cetazione di Ruotolo. Ruotolo ebbe a studiare l'occasione propizia per eliminarli insieme, altrimenti non avrebbe risolto nulla, a individuare il percorso di allontanamento e il luogo in cui disfarsi dell'arma. E passò un apprezzabile lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione. L'8 novembre 2017 la Corte d'Assise di Udine condanna l'ex militare Giosuè Ruotolo all'ergastolo. Il 12 ottobre 2018 si apre il processo d'appello e la Corte d'Assise d'Appello di Trieste conferma la sentenza di primo grado nel marzo del 2019. Nel gennaio del 2021 la Cassazione conferma la sentenza che condanna l'ex militare all'ergastolo per l'uccisione del caporal maggiore Trifone Ragone e della broker assicurativa Teresa Costanza. Io ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato per voi interessante. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso nei commenti, quindi come al solito insomma ci becchiamo nei commenti, scrivetemi tutto quello che volete. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie 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 a tutti!